Pace e bene! Oggi vorrei leggerti le splendide parole di Don Tonino Bello che ha indirizzato coloro che soffrono nel corpo. Prima di tutto perché il compatimento è una spartizione fittizia del dolore, poi perché vi toglie la fierezza di rimanere soli sulla croce e infine perché rischia di fermarsi alla soglia delle parole, al paraplegico che sta inchiodato su una sedia a rotelle, che sollievo può dare il sermone di circostanza fatto da chi magari, subito dopo, deve correre in palestra per una partita di basket, all'handicappato che ti interpella sui grandi perché della vita, che conforto possono recare i luoghi comuni tratti dai repertori della compassione, a chi è ridotto all'impotenza, da una malattia irreversibile o da un improvviso declino della salute o da un fatale incidente sulla strada e ti pone la scommoda domanda del che ci sto a fare io sulla terra? Quale aiuto possono dare maldestre eccitazioni bibliche? Davanti a chi soffre, l'atteggiamento più giusto sembrerebbe il silenzio. Però anche il silenzio può essere frainteso o come segno di imbarazzo o come tentativo di rimozione del problema e allora tanto vale parlarne, semmai con pudore, chiedendovi scusa per ogni parola di troppo. Dire che con il vostro dolore contribuite alla salvezza del mondo può sembrarvi letteratura consolatoria. Ricorrere alle frasi fatte degli occhi che vedono bene solo attraverso le lacrime può essere inteso come un insulto gratuito o almeno come un ritrovato sterile della saggezza umana. Aggiungere che un giorno sarete schiodati pure voi dalla croce può apparire uno scampolo di quell'eloquenza mistificatoria che non convince nessuno. Ma dirvi che sulla croce un giorno ci è salito un uomo innocente e che sul retro della croce c'è un posto vuoto dove un altro innocente chiamato a far compagnia ai rantoli di Cristo appartiene al messaggio inquietante eppur dolcissimo che un ministro della parola non può né accorciare né mettere tra parentesi chiamalo il tuo signore è un nome breve non può non sentirti è inchiodato appena dietro di te forse un giorno quel posto sarà mio o lo è già da adesso ed è solo l'esemplarità del vostro martirio più grande che me ne rende agevole il tormento il mattino di Pasqua nella corsa verso il sepolcro voi sarete più veloci di tutti e ci precederete come Giovanni e forse vi fermerete sulla soglia per farci vedere le bende per terra e il sudario piegato in disparte e l'ultima carità che ci aspettiamo da voi un abbraccio e che il buon Dio vi benedica e che il buon Dio